Aprile 2020, l'Italia è in quarantena, ma nelle case degli italiani. La vita continua, amore, disastro, figli, amicizia, intrighi. Eros, passioni, esami, qualche lacrima e tanto divertimento. Nella prima commedia italiana al tempo del coronavirus, girata durante il lockdown, da casa degli attori con i loro smartphone per sostenere la protezione civile italiana. Il cinema non si ferma, prossimamente. Il cinema non si ferma, prossimamente.